Il tagliasiepi elettrico Bosch Advanced Deggat 65 è perfetto per potare siepi grandi e arbusti robusti. Con un motore da 500 W e una lunghezza barra di 65 cm, garantisce tagli precisi e rapidi. Il spessore di taglio di 34 mm permette di affrontare rami spessi senza difficoltà. La sua impugnatura ergonomica e il design bilanciato assicurano un uso confortevole anche durante lunghe sessioni. Di lavoro. Ideale per chi cerca uno strumento potente e affidabile per il giardino.